Il nuovo spettacolo di Tricarico farà tappa a Castellabate, in Piazza Lucia, a Santa Maria, mercoledì 5 dicembre alle ore 20. Il concerto, a causa delle avverse condizioni meteo, aveva subito dei rinvii. Il tour, in millennia e maggiorenne, propone tutti i più grandi successi di Tricarico, rivisitati in chiave elettroacustica, arricchiti da incursioni teatrali e coronati in etica di involuzioni strumentali, col piano di Michele Fazio. Un concerto intimo, discorsivo, di pop d'autore dal Pio sofisticato. Lo spettacolo si inserisce nella quarta edizione del progetto, Cilento, un modo di vivere, finanziato dalla regione Campania, con il paternariato del comune di Castellabate. Francesco Tricarico, cantore milanese della scrittura lirica e surreale, noto al grande pubblico per il successo Io sono Francesco, con il quale ottene nel 2000 l'ambito disco di platino. Successo, poi replicato nel 2008 con il Cenebre Brano Vita Tranquilla, lanciato al Festival di Sanremo, che i valse il Premio Mio Martini. Tricarico torna sui parchi della penisola in occasione dell'uscita del nuovo album, Da chi non te l'aspetti, e del nuovo singolo estratto, un cantante di musica leggera, realizzato col featuring di Arisa. L'assessore al turismo e alla cultura, Luisa Maiuri, commenta così l'appuntamento musicale. Ci auguriamo che in questa nuova data il tempo sia finalmente clemente e che permetta lo svolgimento del tanto atteso spettacolo. Tricarico darà ufficialmente il via ai grandi eventi previsti a dicembre in occasione della festività natalizie. Sarà certamente un ottimo inizio grazie a un'esibizione musical di innegabile qualità.